E' cominciato il countdown ad Arezzo per l'arrivo dei mercatini di Natale tirolesi in Piazza Grande dal 4 al 27 di dicembre. In cabina di regia la Confcommercio a Retina. Sì, è stato difficile conciliare tutte quelle che sono le varie iniziative e le peculiarità della nostra città, in particolare la Principe, l'evento della Fiera Antiquaria che è sicuramente la più bella, la più grande e la più importante. Ma con l'aiuto dell'amministrazione ce l'abbiamo fatta perché siamo riusciti a conciliare le due cose. Ci auguriamo che dal 4 al 27 dicembre sia una zona, quella della parte alta del corso, tutta quella di Piazza Grande, ma diciamo tutta la città, una grande kermesse di gioia, di luci e di opportunità. Confermato l'assetto dell'edizione aretina del mercatino che esporta nella città del Vasari la fortunata formula degli eventi natalizi. Per gli aretini tante sorprese. Una più di 20 casette con l'artigianato artistico, le oggettistiche di Natale, l'enogastronomia altoartesina, addirittura all'interno di una grande baita di 80 metri quali che arriverà dalla Germania, dall'Alto Adige e sarà ricostruita fedelmente in Piazza Grande all'interno della quale si potranno degustare piatti tipici dell'Alto Adige. Ci sarà spazio anche per iniziative a favore di Calcit e Meyer. L'8 dicembre allestiremo l'albero di Natale Vero in piazza da 15 metri e il ricavato della vendita delle palline con il marchio Meyer andrà proprio a un progetto benefico legato all'assistenza dei genitori che devono stare in luogo per i loro bambini malati. La seconda, il 26, Santo Stefano per il Calcit, una grande iniziativa per i bambini e per i più piccoli, con la musica e il karaoke del maestro Enzo Scartoni, ma anche con la collaborazione con il quartiere di Porta Crucifere, e il Vespa Club di Arezzo che porteranno in Piazza Grande oltre 30 babbi Natale per raccogliere fondi per la sezione retina del Calcit.